Ciao a tutti, benvenuti, sono Alessandra, sono di Milano e mi occupo di marketing. Io dico no innanzitutto perché ancora ingenuamente credo che la democrazia, il governo del popolo abbia un valore, sia un valore importante da essere difeso. Quando i nostri costituenti hanno scritto la Costituzione per la prima volta, erano stati eletti con una legge proporzionale e quindi loro rappresentavano tutti i cittadini. Io dico no perché non voglio che il potere sia concentrato nell'esecutivo, che sia l'esecutivo a determinare quelle che sono le regole comuni della nostra società. Voglio che noi cittadini teniamo nelle nostre mani il potere di scegliere quelle che sono le nostre regole comuni. Non voglio che ci dicano cosa fare le lobby, Obama, i grandi gruppi finanziari e soprattutto io dico no perché voglio che l'Italia sia un paese libero e indipendente e che tutti noi cittadini italiani continuiamo a rimanere delle persone libere e indipendenti. Grazie.